Buonasera, buonasera, salve, sono Duglio Pizzocchi, ormai partecipo alle convention della Cica Impianti di tanto in tanto, praticamente da quando è nata, quindi sì sì, sono venuti i primi anni, quando ancora Flavio aveva i capelli e Claudio aveva la barba nera, per cui insomma mi sento quasi un parente, da allora è cambiato qualcosa, anzi sono cambiate molte cose, per esempio da un anno a questa parte sono diventato nonno, ero un ragazzino adesso ci sta, ci sta anche se non è merito mio, però tutto sommato vedere che la generazione prosegue e anche questo fatto di diventare nonno mi ha permesso di ricominciare a vedere il mondo dei bambini, perché finora mi ero un po' fissato sul mondo dei cani, ho sempre avuto qualche cagnino da portare in giro, ed è buffo, che anche voi avrete, qualcuno di voi ha dei cani, notare che chi ha i cani con gli altri cagnari, possessori di cane, non è che ci conosciamo di persona per nome, conosciamo la mamma di Balù, il babbo di Palino, il padrone di Rufus, poi ci medesimiamo talmente tanto con sto cane che finiamo con il parlare al plurale, stamattina siamo andati dal veterinario a fare il vaccino per la filaria, oggi facciamo un po' fatica a fare la cacca, un giorno, giuro, c'era una signora in lontananza con una barboncina, mi fa, è un maschio? Sì, allora stia lontano che siamo in calore, tutti e due, non è neanche una brutta figa, dico eventualmente qualcosa si potrebbe anche combinare, invece i bambini mi sono rapportato a quando ero bambino io, è cambiato tutto, i bambini di oggi cadono ai giardinetti, così sull'erbetta appena rasata, non si fanno mica niente, noi cadevamo su dei ghiaioni con in mezzo gli spuncioni di vetro, gli angoli di mattonella, pezzi di ferro, eravamo sempre feriti come dei guerrieri, dei gladiatori, le croste qua nei ginocchi, nelle gambe, da tutte le parti, adesso il bambino che cade ai giardini con il suo piccolo monopattino, la mamma accorre, c'ha il borsino, il pronto soccorso con dentro il citrosil, la bambaggia, il cerotto spray, noi ci guardava la nonna, che vedeva che ti aveva russolato per terra, era la che parlava con le altre vecchie, vieni qua dalla nonna che ti disinfetta, tirava fuori dalla tasca un fossolettino a fiori, ecco, disinfettato, perché la saliva faceva tutto, disinfettante, detergente, adesivo, lubrificante, tutto, ti sei sporcato con la nutella, ecco, hai la caccolina in un occhio, sei spettilato, ancora un ricciolo, ma basta, mi ha sputato in faccia per tutta l'infanzia mia nonna, io se chiudo gli occhi sento ancora l'odore della saliva di mia nonna, è stata una cosa, un massacro, poi se ci pensate, a quel tempo la saliva si usava per tutto, non c'erano mica i francobolli autoadesivi, il francobollo c'era la cola di pesce, la busta, la matita che non scrive, la chiave che non entra, volta pagina, amore vieni qua un attimo, vabbè adesso non esageriamo, però ci faceva tutto con la saliva, tutto, 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 lo sversamento, lo sversamento era una cosa, mia figlia per il bambino ha uno scaffale con tutti gli omogenizzati del mondo animale e vegetale, noi c'era una cosa terribile che si chiamava alpkan, il bocone in bolognese, altrimenti detta albiasot, il masticotto, come funzionava? c'era questo povero bambino incastrato in un soggiorno di legno, dall'altra parte della tavola la nonna, con un dintesi e quattordici no, che tagliava la bistecca a passettini, poi con queste gengive dure la mummiava, non so se il verbo esiste ma da l'idea, così, intanto il bimbo, qualcuno so che lo sa che è vero, intanto il bimbo, goloso, guardava questa cosa, poi quando la nonna sentiva che il bocone aveva raggiunto la giusta consistenza, tomo bello, magna e lo mangiavamo contenti, mettevamo insieme un fisico che gli attaccavamo noi la peste ai suini, non era viceversa, eravamo noi i portatori sani, era una roba, per colazione certe volte, per far presto, andavi nel polaio, prendevi un uomo, un buco sopra, un buco sotto, un ciucciotto, adesso direbbero la salmonellosi, quando si presenta i nostri anticorpi, chi sei te, la salmonella, mua che guerra, vai via via, fa dei coglioni, poi se invece la mamma, ma è vero, se invece la mamma aveva tempo e non aveva altri 26 figli, ti faceva lo vino sbattuto nella tassa, lo sbatteva l'uovo, ci metteva un cucchiaio di zucchero e un bel bicchiere di marsala, avevi sette anni, andavi a scuola così, come Vasco Rossi, e siamo solo noi, allora dopo chiamavano a casa e dicevano, il bambino si addormenta in aula, gli devo rinforzare la colazione, due uova, cucchiaio di zucchero, basta il marsala, ferrocchino a bislieri, 40 gradi, a dieci anni non andavi alle medie, andavi al CERT direttamente, a fare i trattamenti sanitari, non so come mi hanno fatto arrivare vivi fino ad oggi. Come ho detto, da ieri sono pensionato, quindi ho anche già visto dove andare a parlarmi, perché vicino a casa mia sono diversi anni che costruiscono, non finiscono mai, una palazzina ed è un punto di ritrovo dei pensionati, c'è questa rete arancione e tutte le mattine uno o due pensionati là davanti così, che guardano il non progredire dei lavori, beh insomma l'altra mattina esco sei, sei pensionati in fila, dico beh, com'è che siete in tanti oggi? Oggi arriva la gettata, la gettata non la possiamo perdere, mette cane, pisci dopo, ci siamo messi lì, mentre aspettavamo passano due ragazze, abbiamo visto anche qualcuna qua in giro, in tenuta estiva, canottierina e quei braghini di jeans corti, aderenti, che già sono corti, loro devono anche arrotolare un po' il bordo dietro in modo che mezzo culo esca da sotto e si sono fermate lì davanti a noi a guardare cosa succedeva di là da questa rete, si guardava anche volentieri sta roba, dieci secondi, il nonno di fianco a me, signoreina, via via, arriva la betoniera, via via, la betoniera, ma la betoniera, tu preferisci la betoniera a due bei culi, vuol dire che sei in fondo un abisso dal quale non c'è ritorno e io lo so che sono già destinato lì, in questo mondo di pensionati che fanno di tutto pur di stare fuori di casa, perché sanno che stando in casa dovranno sopportare quella donna, la moglie, che inevitabilmente vivrà più di loro, sì, più che altro perché la moglie di solito è più giovane, ma anche per il fatto che, lo dice l'Istat, la donna italica vive mediamente sette anni in più dell'uomo e non è che voi donne vivete di più perché avete più salute e che siete voi a portare a prematura scomparsa questa povera creatura innocente, sto povero uomo, ah, l'applauso maschile, sto povero uomo va in pensione, da un giorno all'altro si trova a passare nove, dieci ore, tottide, con un gendarme austriaco che lascia far niente, io lo vedo già adesso, la domenica, quando c'è la Formula 1 in tv, alle due, lasagna, arrosto, zuppa inglese, divano, al terzo giro già chiuso gli occhi, cullato da questo, senti come aiuta, è la ninna nanna, ti dici, ormai la partenza l'ho vista, sono tutti in fila, chiudo un po' gli occhi, tanto non mi addormento mica, no, senti così, poi se capita qualcosa, lo dicono, ci guardo, leclerc si ferma i box, oh che guerra leclerc, e le arriva lei, bravo, stai pure l'impigrirti, che puoi, ti viene l'ictus, eh, aspetta beh, va là che faccio due passi, non mi segnare il pavimento, guarda che strisioni, vai a vuotare il rusco, sarebbe buttare la spazzatura per i non autoctoni, perché dobbiamo andarci sempre noi a vuotare il rusco? Io se vedo una donna vicino ai cassonetti, con un sacco nero in mano, so che è una vedova, che con i sette anni che sono morto ci vai in poiette a vuotare il rusco, l'unica soddisfazione che non è l'aldilà, allora l'uomo le prova tutte pur di sfuggire a questa situazione, c'è chi va al bar a giocare a briscola, massino, tre sette, chi va a giocare le bocce, chi va a pesce, ne ho visti uno una mattina, io abito a Bologna, al barca, quartiere barca, c'è il ponte sul Reno, tra borgo e barca, e c'è anche il semaforo, lo vedi bene il fiume lì sotto, una mattina c'era un pescatore, una mattina di febbraio, veniva giù il nevischio di sbiego, c'era stato meno due, c'era sto poveretto con il braga stivale di gomma fin qua, a bagno nell'acqua fino al polpaccio, acqua gelido ovviamente, con sta canina in mano che tremava, che io mi son detto cosa avrà lui lì a casa sua per ridursi così? Io me lo sono immaginato all'alba, sotto il piumone, apre un occhio, c'è di fianco, non sferatu, con la crema verde, i bigodini con la rete, sei già sveglio? Vado a pesce, apre il mantello come Batman e vola nel fiume a morire piuttosto che star lì in casa, poi dopo aver provato tutte le soluzioni possibili e immaginabili, arriva l'ultima spiaggia che è l'orto comunale. Avete gli orti quel finale? Non so, io a casa mia ce li ho perché a Bologna sono proprio vicino a casa mia, in fondo a Reno e ogni tanto col canino vado a vedere, così per fare una passeggiata ma anche per cogliere qualche suggerimento e ho capito intanto uno che non è che sono sempre i pensionati che vogliono l'orto, molte volte alla mattina arrivano dei ragazzi giovani in macchina che scaricano questi poveri vecchi, li cucinano i terrecinti, li chiudono la chiave, c'è tutto il filo spinato sopra, ma mica per non far entrare i ladri, per non far scappare i vecchi, li lasciano chiusi là tutto il giorno, poi la sera li vanno a riprendere, li recusiscono le verdure e li riportano la mattina dopo e fanno dei dialoghi meravigliosi, dialogo visto da me ai giardini, agli orti. Allora, nono numero uno, seduto su una panchina all'esterno degli orti, quelli che sono in semilibertà, possono allontanarsi ma non tanto perché hanno la cavigliera elettronica che suona a casa se per caso si allontanano troppo. Arriva il suo amico, quello con le mani dietro, quello che è lo sforzo più grande della sua giornata è questo, faccio vedere, il cambio mano, poi c'è quello con la bicicletta a mano, così, mai salito sopra, c'è il nylon nel celino, io ne conosco uno e gliel'hanno venduta senza catena, non se ne è mai accorto, semplicemente così. Ma il più caratteristico è quello che va a vedere il lavoro in corso, quello che dicevo all'inizio, è uno che apre la finestra alle sei di mattina, prende un respiro, sente odore di terra mossa a un chilometro di asfalto a tre, parte da casa già facendo così. arriva sul posto, c'è nessuno, c'è nessuno, veniamo al dialogo, è in bolognese ma grosso modo lo capirete anche perché neanche c'è molto da capire. non ho ceduto, arriva quell'altro. La Lauren, c'ho dito, c'è vodka d'egge, hai poco da dire, ti ha mal dico a me? Ah, ti ha sdiccante, ti sciolte con chi vodka d'egge. Eh, voilà, voilà che... Eh? Ah! Va di lungo un bel po'. Ve la faccio breve. Voilà che vuole una bella passenzia. C'è, ma che vuole una passenzia? D'altro aperto, c'ho avuto fer. Hai poco da fer. Fa mal dico a me. Ah, di che cazzo parlano? Ah, sono stato attento, venti minuti, non nemmeno conoscete l'argomento, eh. Non c'era il soggetto, andava bene tutto. Dall'astrofisica al campionato di calcio. Invece la donna è astuta, sta in casa sua, va dai cazzi suoi, tiene lontano i parenti perché lo sa che la vorrebbero far morire, specie le bisnonne per ereditare. Mia nonna, per esempio, per tenere lontano noi parenti, aveva un sistema semplice e infallibile, portare sfighe. te l'andavi a trovare, non la vedevi, non so, da venti giorni, un mese. La prima frase era sempre questa. Ciao! Siete chi è morto? Chi è morto stavolta? Ma il benzinaio qua sotto, povere, avrà avuto la tua età. Ma me lo veste che aveva l'occhio spento, il colorido muffa, l'ho detto. non è il campo poco. E te come stai che ti vedo pallido? Ma benessum, lei sta bene. Ti anche ora, per darvi un'idea visiva di questa creatura del demonio, prendo un paio di accessori da qui. Ma niente di che, eh. Proprio semplice, semplice. la nonna io l'identifico, come era la mia nonna, con uno scialle di lana, modello il paradiso dell'accaro. Questo qui se lo mollo per terra lo trovo là in fondo e scappa da solo. Un fular. E' molto bene. Giubileo di Roma. Si vede piazza San Pietro, la Pietà, il Mosè, il Colosseo, il Papa che schiaffeggia la cinese. E' anche firmato da una stilista italo-americana, famosa nel mondo. Poli Ester, famosissima. Lester firma di tutto, eh. Cappelli, ombrelli, camicette. L'unica cosa non fa le mutande perché scintillano nel camminare, prende fuo i colai, è un casino. Cos'è, signora? Sto facendo bene. E' come se l'organismo si spezzasse in due. Da qui in ciò funziona più niente. La vista cale, i denti cadono, l'udito debole. I bronchi infiammati. Ma da qui in giù, come una bimba piccola. Ha un cagadocio, un pesadocio. Piccola, piccola. Poi, io sono vedova. Eh sì. Mio marito è morto giovane. Avrà avuto... Peccato che non vedo. Comunque... Era proprio una festa come questa, della ciga. Stava mangiando uno spiedino di... Quegli spiedini di agnello lì. Gli è andato un boccone di attraverso, il sefughele è morto. Quando si dice basta un secondo. Se sefugheva con gli occhetti bastava un primo, sefughe col secondo. E così io sono rimasto solo con mia sorella Lelida. Novantasei anni. No, si sterma là. Là in una casa da sola, la Bolognina. La Chinatown di Bologna. I cinesi li hanno comprato tutto. Quattro bar, due alberghi e ristorante. Tutti i negozi. Perché loro, i cinesi, arrivano in un posto, inglobano, lavorano venti ore senza tregua. Per dare la sua cassa, mio nipote, per dare il nome al bimbo, Jacopo. Sono stati dei mesi a cercare sul libro dei nomi, l'etimologia, il calendario, il santo. I cinesi, quando nasce il bimbo, fanno presto a dare il nome. Prendono una pentola vecchia, la buttano giù per le scale e il bimbo lo chiamano così. Deng, ping, tong, mao, se cercate in fondo alla scala. Via, 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 via. Educati. C'è uno di questi bambini nei giardini. Gli è andato a ridere un uomo e gli ha detto «Babbo, perché dicono che noi cinesi siamo tutti uguali?» «Fa uguale che tu, babbo, quello là in fondo». Tutto un altro modo. Chiamo un attimo mia sorella che sento se è ancora il mondo. Se non risponde al terzo squillo chiamo la pompa funebre. «Ai, ai, 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 ma che ora è?» «Oh, pronto!» «I tè!» «Lasciamme!» «La novella!» «Toshurelle!» «Meno male che non dobbiamo andare da la De Filippi per riconoscerci». «La De Filippi!» «Sì, quella che faceva i film con Totò, Peppino De Filippi!» «Sono tornato da poco, sono andato giù a Pinarella a trovare la Margherita!» «No, ma volentieri, andavo in spiaggia la mattina presto a respirare l'odio!» «Poi me l'ha fatto venire davvero l'odio!» «Mi ha portato a vedere un spettacolo, al dancing, le due lune, i coach!» «Remember anni 90, California Drangman!» «Diverso dal bingo!» «Un bel po'!» «No era quasi mezzanatte!» «Sono arrivati su dei giovannati, hanno cominciato a ballare, a cavarsi i vestiti, e via la giacca, la camicia, la cannottiera, giù le braghe!» «Quando ci sono cavate anche le mutande, mi è scappato detto un shot smell che ha sputato la dentiera in mezzo al palco!» «Gli ho fatti scappare tutti!» «Sì, perché poi la dentiera rimbalzava, si è attaccata al garetto di uno!» «Ah, l'ho dovuto rincorrere in camerino!» «Nudi! Come fai a strasire?» «Nudi! Con dei zavagli e spenzoloni!» «Al bagai!» «Al bigo, al lugello, al calide!» «Hai presente un uomo nudo?» «Cosa ha stramezzo le gambe?» «I ginocchi va bene, più a sotto!» «Niente, ciccio bello!» «No, no, te non ci sei più con la testina!» «Domattina ti vengo a prendere che andiamo al cimitero, che hai bisogno di svago!» «Alle cinque e mezza sono lì, per il fresco!» «Sì, loro aprono alle otto, ma io ho la chiave del cancellino!» «Ascolta l'ultima cosa! Hai messo fuori il gatto?» «Mette fuori il gatto, è morto da un mese, rassegnati, basta!» «Domani è un altro giorno e noi siamo pronti!» «No, te nu agressi!» «Hai響i, rarsegnati,enschaft e